dal Bridge Extreme Festival, benvenuto ai ragazzi del Glory Hall. Che dire ragazzi, è una serata sensazionale, è un evento unico, mai visto in un ponte, no? È una figata pazzesca vedere, io a occhio e croce saranno 2-3 mila persone che ballano su un ponte, musica di tendenza a Belluno, penso sia la prima volta nella storia di Belluno, ma forse anche d'Italia. Io penso anche d'Italia, questo concetto qui di unire le porte tra club, promoter, DJ, producer, non è certo un concetto italiano, ma davvero questo è di buon augurio, chissà che ce ne siano ancora, e quindi incrociamo l'Italia per il futuro, ma io direi ora di concentrarsi su questa stagione, il prossimo inverno, al Glory Hall. Rudy! Cominceremo il 12 ottobre con Uto Karem, un'idea del nostro King, e quindi verrà proposto ogni secondo e quarto sabato del mese, secondo e quarto sabato del mese, esatto. Cominceremo appunto con Uto Karem e gli altri ospiti confermati ancora, vi posso dire, li scopriremo insieme, e spero che sarà una stagione fantastica. Quali saranno i tuoi Red DJ? Beh, sono qui con me, uno è Matteo, l'altro è Marco, Marco King è il vocalist, Zorzato e il Ceno. Che dire ragazzi, io incroncio le dita per voi e auguriamoci un bel inverno tutti insieme al Glory Hall! Vi aspettiamo tutti! Grazie! Grazie a tutti!